Ciao a tutti ragazzi, sono Zwillix e oggi sono qui con un nuovo video in cui mostrerò ben tre glitch e non solamente quello che ho scritto nel titolo del video Quindi oggi andremo a vedere come esplorare lo Santos col Blackout Andremo a vedere un glitch sull'auto di Trevor che vi permetterà di volare stranamente Mentre il terzo glitch riguarda come avere i guanti da lupo dalla modalità slasher E riuscire ad indossarli in una sessione pubblica liberamente, come se voi li aveste nel vostro abbigliamento Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piacere perché ci vuole un secondo, lasciate un piacere, un piacere di Facebook, la trovate in descrizione di questo video Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto per altri contenuti Cominciamo subito con il primo glitch in cui mostrerò come esplorare la città con i Blackout Per prima cosa dovete creare una modalità slasher con il vostro amico dalle modalità competizioni E scegliere la modalità slasher numero 3, mi raccomando, quella con lo yacht Una volta fatto ciò avviatela normalmente con il vostro amico Tranquillamente mettete un round o quanti round volete per esplorare la città E a 5 secondi da quando sta scadendo la modalità dovete tuffarvi sia voi che il vostro amico nell'acqua Ovviamente vi consiglio di fare questo glitch solamente in due perché altrimenti gli altri potrebbero rovinarvi il glitch E se vi gettate dallo yacht a 5 secondi dalla fine, come vedete potrete esplorare la città liberamente Almeno per 3 minuti con il blackout La cosa brutta è che però purtroppo non ci sono né veicoli da utilizzare né civili né altro Quindi potrete semplicemente andare a piedi nel vuoto Insomma questa è l'unica pecca del glitch Però per il resto è veramente un glitch molto simpatico Potrete un po' guardare come sarebbe lo Santos con il blackout Cosa che normalmente non si potrebbe vedere Passiamo invece al secondo glitch, mostrerò un glitch veramente carino su come volare con il veicolo di Trevor Il veicolo di Trevor sarebbe il Canis Body che potete acquistare da Super Super San Andreas Per fare questo glitch praticamente dovete dire al vostro amico di arrampicarvi sopra i sedili Non sedersi con triangolo ma proprio arrampicarvi come state vedendo in questo momento nel video E una volta che sarà sopra come state vedendo adesso nel video Si dovrà fare ammazzare facendosi colpire la testa Quindi voi dovete avvazzare l'amico colpendolo alla testa Una volta che l'avete ucciso salite subito nella macchina e accelerate subito E stranamente questo veicolo farà questo effetto che state vedendo In questo momento si metterà un po' a volare all'impazzata ecco E non so neanche io come possa accadere Però insomma come funziona il glitch L'importante è avere un corpo morto del vostro, di un giocatore qualsiasi Sopra i sedili della macchina e potrete fare questo Adesso vi mostrerò invece come avere i guanti da lupo nella sessione libera E poterlo utilizzare ovunque dove volete voi Quindi insomma esportarlo ecco in free mode E portarlo nell'abbigliamento del vostro personaggio Allora per prima cosa dovete creare una playlist Dovete creare una playlist con l'attività che trovate nella descrizione di questo video Scaricate la chat sia per playstation 4 che per xbox one Una volta scaricata dovete creare una playlist con quell'attività Fate i miei elenchi partite, crea un elenco partite E dovete praticamente aggiungere la gara che avete appena aggiunto Una volta che avete appena aggiunto la gara nella playlist Dovete aggiungere un'altra qualsiasi Quindi tranquillo non vi preoccupate potete aggiungere anche quelle della rockstar E quindi avere due gare Una quella che vi ho detto nella descrizione e una qualsiasi nella playlist Salvate la playlist Una volta salvata la playlist avviatela Avviatela dai miei elenchi partite E una volta avviata questa playlist Dovete praticamente fare la prima gara da solo Quindi mettete da punto a punto Utilizzate qualsiasi veicolo che volete E una volta che avete avviato la gara Sarete praticamente in questo punto Quando sarete in questo punto dovete scegliere la rampa a sinistra E cascare nel vuoto Una volta cascati nel vuoto dovete semplicemente finire la gara Così come la vedete Una volta che avete finito la gara Vi spiegherò cosa dovete fare Ora vedrete praticamente una clip in cui la registro dal telefono Però questo perché ho l'elgato rotto E lo share non ti permette di registrare il menu del Playstation Network Allora praticamente che cosa dovete fare Una volta che vi si sta per avviare La seconda attività della playlist Uscite dall'attività playlist Sarete nella modalità libera Quindi andate sul menu PS Andate giù su attività recenti Fate visualizza tutto E controllate che ci sia il vostro nome Con scritto che ha affrontato l'elenco partite Da voi creato Quindi se c'è state facendo bene questo glitch Una volta fatto ciò dovete andare su attività Create da Rockstar Modalità competizione E creare una delle 5 attività slasher qualsiasi Quella che volete Quindi invitate un amico Voi dovete essere le prede Mentre il vostro amico dovrà fare il maniaco Quindi fate in modo che non ci sia il bilanciamento squadre tra le opzioni Ma soprattutto che ci sia solamente un round Quindi dalle prede dovete scegliere l'outfit dolcetto o scherzetto Questo qui che ha i guanti da lupo E quindi una volta fatto ciò potrete avviare la modalità Quando avrete avviato la modalità Dovete dire al vostro amico di farvi ammazzare E quando sarete morti dovete aspettare che si carichi fino alla schermata del replay Quando sarete nella schermata del replay dovete fare quello che adesso vi mostrerò Appunto la parte in cui ho registrato con il telefono Però dovete fare molto veloce che lo schermo replay dura qualche secondo Allora praticamente dovete premere il tasto PS Quindi andare nel menu PS E una volta che siete nel menu PS dovete andare su attività recenti Visualizza tutto E dovete cliccare sul punto in cui vi dice che voi avete avviato un elenco partite A questo punto andate in basso a destra e scegliete l'opzione elenchi partite Come vedete in questo momento nel video Cliccateci E quando ci avete cliccato dovete aspettare la fine del replay E quando avrà finito il replay Ad un certo punto Praticamente vi si sponerà automaticamente il personaggio nel garage Vi chiederà se volete uscire o meno nella sessione Voi premete semplicemente cerchio Allora a quel punto sarete nel vostro garage E quando sarete nel garage dovete andare tra gli abbigliamenti E quindi salvare appunto il completo Avrete il completo con i guanti da lupo E salvare un completo non è difficile Basta andare nel vostro vestiario Una volta che siete nel menu vestiario Premete quadrato Nuovo completo Nominate il vostro nuovo completo E avrete il completo che potrete utilizzare appunto ovunque Quindi avrete sbloccato i guanti da lupo Un consiglio che vi do è quello di non levarvi la felpa Perché altrimenti vi si leveranno anche i guanti da lupo Quindi le uniche cose che potete levare nel vostro personaggio Sono i pantaloni E il cappello O comunque sia la maschera Dovete tenere solamente la parte superiore Quindi niente ragazzi Detto questo per farmi lasciare un piace Ci vuole una seconda di cliccare quel bottone blu Lasciate un piaccio alla pagina Facebook Altro vedete di iscrivervi a questo video E altrimenti iscrivetevi al canale Se non vedete che ho fatto per altri contenuti Per te è tutto Ci sentiamo al prossimo video Grazie a tutti E altrimenti iscrivetevi al canale